Ciao, sono Fabio Sutto, Performance Marketing Specialist di Performance Based e non a caso a SMXL parlerò proprio di Performance Marketing e Lead Generation con Facebook Ads. Infatti è ormai assodato che Facebook Ads oggi è uno dei canali più efficaci nell'acquisizione di contatti suscettibili di trasformarsi poi in potenziali clienti. Nel mio speech entrerò molto nel dettaglio e faremo un confronto tra le due tipologie di campagne che la piattaforma mette a disposizione per la Lead Generation, le Conversion Campaigns e le Lead Ads Campaigns. Vedremo quando convenga utilizzare una o l'altra a seconda del settore merceologico ed esamineremo le differenze in termini di quantità e qualità dei nominativi raccolti. Capiremo infine come migliorare la quantità di lead di buona qualità che possiamo raccogliere proprio tramite Facebook. Ti ringrazio per l'attenzione e ti aspetto il 7, 8 e 9 novembre a Milano a SMXL.